Movimento 5 Stelle all'attacco della giunta regionale dopo la bocciatura del piano rifiuti impugnato dal governo Gentiloni in uno degli ultimi atti dell'esecutivo a guida del PD. L'avevamo detto tuorono i grillini con Sara Marcozzi, consigliere regionale che già in passato aveva criticato il provvedimento varato lo scorso dicembre. La delibera di impugnazione di Palazzo Chigi riapre il discorso legato all'incenerimento dei rifiuti perché l'impianto era già stato previsto in Abruzzo. La regione, secondo quanto scrive il governo, non ha fornito adeguati elementi in ordine alle azioni di riduzione della produzione che potrebbe ragionevolmente considerarsi sovrastimata rispetto ad eventuali obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti non adeguatamente considerati, valutando in questo senso difficile dare credito alle previsioni così ambiziose della regione Abruzzo in tema di riduzione della produzione dei rifiuti ai fini di un eventuale aggiornamento del fabbisogno di incenerimento. Critica l'esecutivo regionale al sottosegretario con delega ai rifiuti Mario Mazzocca piovono anche da Forza Italia che con Mauro Febo parla di una debacle totale. Il sottosegretario si difende e risponde così. Cosa accadrà? Accadrà intanto che noi non molleremo di un millimetro, almeno fin quanto io avrò ancora la titolarità delle delega all'ambiente e all'ecologia. Certamente siamo abituati alle esternazioni della Marcozzi e non ci facciamo più caso stridono invece fortemente le affermazioni dell'ex assessore Mauro Febo quando ci dice che sostanzialmente l'Abruzzo in questi anni abbia fallito su tutto il piano delle tematiche ambientali. A lui vorrei ricordare, perché ci vuole una bella faccia tosta nell'affermare ciò, come sul piano delle petrolizzazioni in Adriatico, ovvero sul tema di Umbria Mare, lui quando era assessore ma anche prima non ha fatto nulla e se c'è un risultato è ascrivibile esclusivamente dall'attività di questa amministrazione regionale. Per non dimenticare poi il tema della centrale SNAM di compressione a Sulmona, il 27 marzo del 2011 quando c'è stato il decreto di compatibilità ambientale, cioè che ha dato il via libera al progetto ragione Abruzzo, da lui rappresentato, era assente e non ha dato parere alcuno. Addirittura vorrei ricordare il tema del power crop dove quando c'è stato l'accordo di programma presso il ministero il 9 settembre del 2009 lui era presente ma ha dato un non parere fino ad arrivare al piano di gestione rifiuti la cui scadenza era al 31 dicembre 2013 per realizzarlo. nonostante tutto abbiamo recorsi i tempi, abbiamo recuperato il tempo da lui e da lì, i suoi sodali perso per cercare di evidenziare le ragioni di un Abruzzo sostenibile, cosa a cui noi teniamo massimamente.